ciao a tutti benvenuti a questo video tutorial di kit su oasis vedete già lui è la partenza parte sulla destra si porta fino a centro carreggiata in modo da far driftare la macchina alla prima curva vedete com'è inclinata l'auto e vedete dove va a toccare l'obiettivo è uscire lungo la traiettoria blu non troppo largo se no dopo sarà costretto a correggere la traiettoria non troppo stretto perché se no sulla sabbia rallenterà questo è il punto che andiamo a toccare dobbiamo stare abbastanza vicini senza passare troppo larghi al primo giro in questo punto appena carico usiamo il nos quando la macchina è dritta non ossando a destra né ossando a sinistra altrimenti andremo fuori strada questo è il secondo punto che dovevo andare a toccare vedete quasi a sfiorare la sabbia anzi a sfiorare proprio la sabbia questo è un punto importante dobbiamo passare abbastanza vicini alla sabbia kit rimane un leggermente largo in modo da andare a toccare successivamente dove andrà a usare il nos questo è un punto fondamentale qui andiamo a usare un nos lo dobbiamo usare in questo punto lo dobbiamo usare stando molto vicini alla sabbia anche tagliando un po se lo usiamo successivamente anche a metà rettilineo prolungheremo il salto perdiamo tempo di driftata e la macchina l'atterraggio non sarà stabile vedete qui attenzione kit passa circa metà carreggiata la macchina è leggermente inclinata verso destra in modo da poter proseguire la traiettoria ideale questo è un punto fondamentale perché atterriamo con la macchina non lungo la direzione della traiettoria naturale che sta seguendo ma leggermente inclinata in questo modo la macchina l'atterraggio inizierà a driftare per cui caricando il nos qui andiamo impostare la chicane dobbiamo passare con le ruote vedete sulla sabbia ma dobbiamo riuscire ad uscire lungo la traiettoria blu andando praticamente a metà della carreggiata se stiamo troppo stretti passeremo sulla sabbia rallenteremo se stiamo troppo larghi ci troveremo in difficoltà ad affrontare la curva successiva anche questo punto importante per impostare la curva successivamente dobbiamo lasciar scorrere la macchina ma andare a toccare la sabbia sulla destra qui la chicane è finita ci troviamo sul rettilineo l'importante è andare a toccare la curva non proprio a metà ma leggermente dopo qui usiamo il nostro rettilineo finale notate la zona dove lo potete sparare mi raccomando il nos deve essere sparato con la macchina in piena velocità e la macchina dritta perché se non sape con la macchina inclinata a destra a sinistra uscirete di strada qui c'è un trucchetto quando atterrate dopo il nos dopo il primo dosso dovete arrivare con la macchina non dritta ma leggermente inclinata in modo che l'atterraggio la macchina faccia una piccola driftata ma attenzione a mantenere la traiettoria dritta altrimenti uscirete di strada qua siamo all'atterraggio dopo il secondo dosso sul rettilineo iniziale vedete che dobbiamo atterrare con la macchina già molto molto girata verso sinistra in modo da poter rallentare e contemporaneamente impostare la prima curva nel secondo e terzo giro nel primo abbiamo sparato un solo nos invece nel secondo e terzo giro useremo su questo rettilineo due nos andando a contemporaneamente driftare e fare un unico grande lungo curvone arrivando al secondo punto in questo punto noi usiamo il primo nos qui usiamo il secondo nos vedete che siamo più o meno a metà del ponte i punti da toccare sono sempre quelli che abbiamo detto vedete e poi nos e soliti discorsi questo è un punto controverso nel senso che per fare il tempo forse è meglio non usare un nos qui ma risparmiarlo per il rettilineo successivo in realtà se siete in rank forse qui vi conviene usare un nos altrimenti vi arriveranno 40 bufali dietro qui al terzo giro invece di un nos successivamente ne useremo due il primo lo spariamo qui e il secondo appena possiamo e così abbiamo finito la gara prevo fatte forte sempre